Oggi ci sono persone che vanno al lavoro senza autista. Non hanno assistenti che sbrigano le loro faccende. E si sono ricordate all'ultimo che lo chef si è preso una giornata libera. And when the daylight comes I'll have to go But tonight I'm gonna hold you so close Cause in the daylight when you... Quelle stesse persone lavorano ogni giorno per offrirti servizi e prodotti che ti rendano la vita un po' più semplice. E sai che sono pensati proprio per te. Quando a farlo ci sono persone vere esattamente come te. Questa è la forza che ci fa crescere. Chiarezza, trasparenza, semplicità.